Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video speciale dove vi voglio fare un annuncio molto particolare. Sono felicissimo di dirvi che ci ho avuto una grandissima opportunità e anche sinceramente un grande piacere perché sono stato contattato da drivingitalia.net e da Banca Biper e sono stato invitato a partecipare nel loro team al prossimo campionato ACGT Endurance su assetto corsa competizione che inizierà il 16 febbraio e cioè praticamente dopodomani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questo periodo sicuramente la programmazione sul canale sarà un po' scombinata ma vi porterò pure un pochettino di cose che riguardano questo mondo. Ringrazio Banca Biper perché sono stati gentilissimi, sono stati veramente forti ragazzi, ci hanno invitato a partecipare, sono stati gentili, sono stati simpatici pure nelle call che abbiamo fatto. Insomma mi fa molto piacere anche di ringraziare drivingitalia.net perché anche loro sono stati molto gentili nel pensare a noi per questo campionato dove vi ripeto ragazzi erano i piloti seri cioè non noi quindi noi andremo lì a fare ovviamente la cenerentola e ho fatto un paragone carino perché potevo fare un altro paragone un tantino meno simpatico. È un campionato con vari sponsor tra cui Banca Bipero ovviamente ma c'è anche Sparco, c'è il Driving Simulation Center, 3D Wrap, Sim Racing Pro. Insomma è un campionato serio quindi noi non c'entramo nulla assolutamente però mi fa molto molto piacere. Tutte le gare saranno trasmesse in live sul canale Twitch di Grand Prix TV e oltretutto saranno trasmesse in live su Sky, sul canale 228 The Sky che è il canale The Ashi Sport TV. Insomma raga una cosa veramente grande a cui mi fa molto molto piacere partecipare. Vi ripeto è un video spot, un video speciale in cui vi spiegavo sta cosa così che capite perché cambierà leggermente qualcosa in questi tre mesi qui sul canale. Spero che vi possano interessare i contenuti che porteranno o meglio che arriveranno da sta manifestazione. Sono sicuro che ci saranno sia dei video qui sul canale, Mazz farà delle live, insomma ci sarà tanta tanta roba per divertirci sempre insieme come al solito. Ora l'unica cosa che un pochino se vi devo dire ha un po' stonato è stato, ovviamente non voglio dire che ho subito pressioni assolutamente dalla banca perché ci mancherebbe banca B per ragazzi, cioè non scherziamo. Non mi hanno detto nulla di esplicito però mi hanno fatto capire come tra le linee che se per caso avessi in qualche modo raccomandato i loro prodotti finanziari ne avrei potuto avere qualche vantaggio. Ora ragazzi io sinceramente penso che qui sul canale mi sono costruito la mia immagine, voi sapete che non ho mai detto qualcosa che non pensavo perché ho un carattere forte e soprattutto mi ritengo una persona affidabile. Affidabile come tutti i prestiti di banca B per il prestito per i giovani ma anche per i più anziani e quindi vi invito a guardare sul loro sito perché potete trovare tutte queste informazioni. Grazie per la visione!